Oggi ragazzi siamo qua perchè come vi trattito faremo qualcosa di molto cattivo, Sara? No, no, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere Come non lo vuoi sapere, Sara? Non lo voglio sapere Ok, allora tu hai un profilo tiktok abbastanza attivo, comunque hai un profilo tiktok o sbaglio? Eh, sì Perfetto, tu fai anche dei tiktok comunque abbastanza carini Eh Perfetto, oggi non vedremo quelli Abbastanza? Vabbè, fai dei tiktok Eh, ok Bene, oggi non vedremo quelli carini, non vedremo quelli assurdi, non vedremo quelli divertenti Ma siamo al terzo episodio della reazione di tiktok di mia sorella E sai quelli vedremo? Sai quali vedremo? No, non le vedi le mie bozze Ah, ragazzi Non le vedi le mie bozze Non le vedi, non le vedi, non le vedi Vedremo i tiktok di mia sorella più imbarazzanti Sì, 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 quindi i tiktok non pubblicati i tiktok nelle bozze Sara, sei carica? No, no, non sono carica per niente Ragazzi preparatemi perchè sarà molto ma molto divertente Eh, Sara, fidati che ci sarà da ridere Quindi adesso tu mi dai la password del tuo telefono E andrò vedere Mi dai la password del tuo telefono e vedremo tutti i tiktok nelle bozze Bozze tra tre, due, uno Bozze e sinistra ragazzi Allora, vediamo Wappo, Wappo dovrebbe essere tipo No, 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 dai No, no, Luca, no, no Stai dicendo che lo devo vedere? No, 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 no No, 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 no Vediamo ragazzi da sinistra qua Vediamo cosa c'è Pronti, via Allora, aspetta, aspetta, aspetta un attimo ragazzi Ci sono vivo un pizzicotto Ok Ok ragazzi, sì, effettivamente questo era un tantino imbarazzante Sì, era molto imbarazzante ma Ma fa niente, andiamo avanti, vediamo un e altro Ragazzi spero che non siano tutti come questo Sarai perchè sennò si C'è da divertirsi molto se sono tutti come questo Fidateli Allora, vediamo invece quest'altro qua Allora, vedi, vediamolo, vediamo ragazzi No, no, questo Questo? No, no, vabbè Questo com'è? Ma che cacchio sono queste? Ma che cacchio sono queste? Pur che cavolo Ma che cacchio sono queste persone? Il cosqu'è il titolo più brutto della storia Il titolo più brutto Cioè, dai, scusate i titoli Ma che cacchio era orrendo Ciccate quello l'hai mostrato bruttissimo Cioè, vai, cavolo, hai fatto mirano un po' Ti guardavo il profilo e il titolo brutti, cavolo Stavi questo schifo, dai Mi ragazzi, potete i commenti se sono troppo cattivo Oppure fanno veramente schifo No, dai, 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 poverina È una mia sorella, ragazzi Ma che cavolo è questo? No, no Ma questo, ragazzi No, 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 no Cos'è? Vediamo No, Luca Ma che cavolo Ma che cacchio No, Luca No, Luca, ti posso spiegare No, ma che cacchio no allora allora aspetta un secondo no ragazzi mi sa che sto sognando sarò dammi un pizzo no va dammi un altro sei viva tu viva ma che cavolo sto vedendo no andiamo avanti andiamo avanti ragazzi le cose si fanno molto gravi gravi e non poco ma che cavolo sto vedendo questo vediamo questo ragazzi siamo ancora attenzione via ma che cavolo ma che cavolo sto vedendo ma chi è questa qui ma che cavolo sto vedendo ma chi è questa qui ma che allora ragazzi qui no dai basta non mi piace questo video il livello di cringe è elevato proprio a livelli assurdi e vediamone un altro tipo questo qui o ragazzi questo qua vediamo questo qua vediamo vediamo ho scritto una pezza easy dai vediamo un attimo il mio racchino no dai ma questo qui è troppo easy non voglio ecco cioè così facci no aspettate un attimo questo no 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 vediamo questo ma che cavolo è questa qua ma cos'è questo ma cos'è vabbè però dai almeno questo qui è almeno un attimo meglio di quell'altro sopra cioè è meglio leggermente meglio di quell'altro sopra aspetta un secondo vediamo un altro ragazzi allora voglio il mio bimbo non mi scrive no 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 faccio no 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 Foxy lasciala no Foxy leva il mio ora cybercoso non so che cavolo se vediamo questo ragazzi no 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 Luca stavo imparando no 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 Luca no 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 Luca no non puoi non puoi vederlo non puoi vederlo stavo imparando ancora il balletto vieni vicino no Luca non puoi vederlo no 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 ti prego no basta basta non vuoi mai fare questo no Luca ma tu questo balletto non lo sapevi fare tu non lo sapevi fare questo balletto sai no no ma che cavolo sto questo ragazzi aggressioni dai va bene cospito salto ne vediamo un altro vediamo questo vediamo questo io ragazzi vediamo questo qua oddio ma che ma che ragazzi evitiamo di parlare perché la situazione si fa peggio del previsto vediamo vediamo questo qua ragazzi vediamo questo qua vediamo un attimo no no questo qui è normale quindi non li voglio io non voglio quelli normali vogliamo questo qui lo vedo schiacciato ragazzi mi ammazza se vedo quello lo vedrò quando lo sto registrando vediamo questo qua questo qui è normale ciò che me lo dici lo tolgo vediamo uno che non è normale tipo ti sarà qualcuno imbarazzato questo qua vediamo questo qua questo qua questo qua com'è questo qua com'è questo qua com'è vediamo ma che cavolo ma che non va bene no non va bene allora voglio trovarne uno più imbarazzante che sono queste schivezze aspettate un secondo ragazzi aspettate un attimo un attimo un attimo forse questo qui questo qui no no questo è questo questo qui imbarazzante vediamo ma no ma no ma no 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 ragazzi questi qua no 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 ok ok va bene vediamo proprio questi vediamo ma che cavolo ma chi è questa ma chi è quella lì aspetta chi è quella lì no 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 vediamo questo vediamo questo sai che quando ti chiamo non sta che rispondi va bene non sa che la faccia Aspetta ragazzi vediamo tipo questo qua vediamo questo ragazzi un attimo Non ti lascio sola bella topola mamma io quanto sei buona Ma che cavolo dia Allora ragazzi adesso gliela pubblico uno gliela pubblico uno No 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 Dai vediamo gli ultimi due Sara va bene? No non fa bene ok Questo qui vediamo un attimo come dai Ah non fa bene è normale Ma quanto tempo fa l'hai fatto ma questo che non fa bene Ok vediamo tipo vediamo tipo Prendo a caso questo Ma faici sulla mia sedia sempre tu No no stavo provando una cosa Ma è bruttissimo È bruttissimo questo tipo Oh stavo imparando Veramente brutto vediamo invece tipo un altro abbastanza cringe Per esempio fammi pensare tipo questo qua Vediamo ragazzi questo Ma perché è i miei occhiali? Ma che cavolo è? Ma che cavolo è? Ma che mamma quanto sei brutta Sara? Sarete bruttini inguardabili ragazzi Veramente fa proprio paura Proprio brutta Ok basta Questo qua Questo qui che cavolo è Sara? I last wish Ah no 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 ho sbagliato canzone Ok no ragazzi non va bene neanche questo Sara dai Dimene uno brutto Dimene uno imbarazzante Tipo Tipo questo qua Ma perché è i miei occhiali? Ma che cavolo è? Ma che cavolo Ma che cavolo sto vedendo Ma che cavolo Ragazzi 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 Io veramente No no adesso vediamo l'ultimo Vediamo veramente l'ultimo e basta Perché non ce lo faccio E se questo video arriva a 10 mila like Parte 2 Anzi parte 4 in realtà Però 2 di quelli imbarazzanti Quindi vediamo questo qua Andate ragazzi No 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 Non mi c'è mi uccide Vieni vieni No Luca No 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 Luca non lo arriva Luca 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 Ragazzi ragazzi No 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 non lo metti Non lo metti Non lo metti Foxy 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 mettilo No Ragazzi quindi se volete la parte 2 Di questo video Arriviamo a quanti like Arriviamo a quanti like No 15 mila like Per la parte 2 Sento questo Andate per seguire su tiktok Non seguite la bella caduta Bella